Non chiedermi parole, oggi non bastano. Stanno nei dizionari, sia pure imprevedibili, nei loro incastri. Sono consunte voci, è sempre un prevedibile déjà vu. Vorrei parlare con te, è lo stesso con Dio, tramite segni umbratili di nervi, elettrici messaggi che la psiche trae dal cuore dell'universo. Un fremere d'antenne, un disegno di danza, un infinitesimo battere di ciglia, la musica ultrasuono che nemmeno immaginava Bach.